Ah, solo positivo ragazzi, è tornata la mia amata Inter, ottimo primo allenamento, nonostante che le gambe ovviamente adesso sono molto pesanti, ancora ho visto un Inter soprattutto nei primi 60 minuti, poi dopo hanno cambiato tutta la squadra, bella grintosa. E poi voglio ringraziare pubblicamente Dalbert, grazie amico mio, grazie che ti sei confermato come quello che sei una merda a livello calcistico e Dalbert conosce benissimo Antonio Conte che a livello motivazionale sicuramente è uno dei allenatori più forti del mondo, uno che può anche recuperare dei cadaveri, un grandissimo allenatore, anche Antonio Candrea, vedremo cosa succederà in questa stagione. Mi è piaciuto molto sulla fascia destra nel primo tempo, vediamo un po' ragazzi, Antonio Conte è uno che può riescere a recuperare i giocatori, a renderli più forti e Dalbert ha detto no, assolutamente no, io mi confermo una merda, Antonio Conte, Antonio non ci pensare neanche, io faccio schifo, te lo dimostro subito e gli sono grato ragazzi. Perché penso dopo quello che lui ha dimostrato per l'ennesima volta, una partita così come contro Lugano, non può neanche reggere la pressione contro il Lugano, è davvero pazzesco questo ragazzo, io penso che Antonio Conte non è mica scemo, lo saprà che lui veramente come i Cardi, motivazioni a livello personale per motivi diversi, Dalbert a livello calcistico non può più fare parte di questo progetto Inter. Dalbert out, Dalbert out per l'ennesima volta, grazie Dalbert che ti sei confermato questo. Parliamo un po' per il resto della partita ragazzi, ripeto, dopo 60 minuti cambio di massa, 9 giocatori usciti, poi dopo non si capiva più niente, però i primi 60 minuti nella mia opinione sono stati positivi, perché nonostante che l'Inter con Conte lavorano insieme da pochissimi giorni, nella mia opinione si è già visto la mano di Antonio Conte ragazzi. Due gol bellissimi da fuori dall'area, Sensi veramente un gol fantastico, prima come controlla la palla con un tocco e poi subito come tira, gol davvero fantastico, gol anche bellissimo da Prozovic da fuori l'area, diciamolo così ragazzi, se giochiamo in questo sistema di Conte nella prossima stagione, penso che anche a livello di gol avremo delle belle soddisfazioni quando parliamo del nostro centrocampo, che non è sempre stato così, spesso c'erano solo uno o due giocatori che segnavano, penso che Prozovic, Barella, Sensi sono dei giocatori che sanno anche tirare bene, e questo l'abbiamo visto anche in questa partita, in generale mi è piaciuto molto che finalmente in aria ci sono sempre stati 4, 5, 6 giocatori, non è più stato questo gioco prevedibile con sempre solo un attaccante dentro, prevedibile, tutti che giocano per lui, no, questo mi è piaciuto veramente molto, spesso anche per esempio Cantreva, molto molto in profondità, questi quattro giocatori offensivi, i due attaccanti, poi Perisic, poi Cantreva, spesso in fase offensiva sono quasi stati su una linea, poi sono andati molto molto in profondità, hanno crossato molta gente in aria, poi i giocatori che sanno tirare, che spingevano da dietro, che entravano anche, mi piace ragazzi, questo davvero mi piace, penso che è una cosa tipica per Antonio Conte, questo gioco sulle fasce, questi ragazzi che devono fare tutta la fascia, Perisic, Cantreva, poi dopo è entrato Lassau, che mi è fatto quasi un po' pena ragazzi, perché è entrato diciamo con la seconda squadra dell'Inter, che poi la partita non è più stata bella come prima, però subito, io penso che si vede subito che Lassau a livello tecnico è davvero molto molto forte ragazzi, c'è anche da dire che Lugano ha già concluso tutta la sua preparazione, noi siamo agli inizi, abbiamo visto adesso durante la settimana, gli allenamenti sono stati molto duri, molto pesanti, le gambe sono molto molto pesanti per questo motivo, e mi è piaciuta l'Inter nel primo tempo, perché ho visto davvero un Inter bella grintosa, molto molto motivata, D'Ambrosio ha fatto molto bene il terzo difensore centrale, mi è piaciuto, Skrini ragazzi ha una classe incredibile, si vede anche una partita così, un allenamento così, non importante, ma i suoi interventi, questo timing è davvero spaventoso, De Vrij ha fatto un bellissimo gol, anche se c'è da dire, non si può trovare così tutto solo in aria, aveva tutto il tempo per controllare la palla, per tirarla, per segnare, poi il VAR non ci ha più dato questo gol, perciò ragazzi, sensazioni in questa prima partita assolutamente positivi, e diciamolo così, Sensi, a parte il gol, non solo per il gol, mi è piaciuto davvero tantissimo, grintoso, poi sempre quando l'Inter ripartiva, lui era il primo a disposizione, il primo a velocizzare la manovra, mi è piaciuto davvero molto ragazzi, sensi, veramente, sono restato un po' stupito, bella partita da parte sua, ovviamente ragazzi è stato solo un allenamento, prima partita, non la possiamo sopravvalutare, però le mie sensazioni in generale sono positive, scrivete la vostra opinione nei commenti ragazzi, sempre e solo Forza Inter, finalmente tornata la nostra amata Inter, adesso si va in Asia, e aspettiamo le prossime partite, allora ragazzi, iscrivetevi al canale di Youtube, seguitemi su Instagram, Forza Inter, e viva il calcio, un grande abbraccio a tutti, vi voglio bene, ciao ragazzi!